Il cittadino che chiede un documento che lo riguarda il proprio comune, la provincia o la regione e se lo vede negare, può rivolgersi al difensore civico regionale in fretta e senza spese otterrà una risposta. Nel 2011 sono state 40 le richieste di questo genere e sono già 50 nel 2012. Non tutti i cittadini sanno di potersi rivolgere al difensore civico, in alternativa rispetto al ricorso al giudice, cioè al TAR, per richiedere e pretendere dall'amministrazione comunale, provinciale o regionale un documento che essi cittadini hanno il desiderio, il bisogno, l'interesse di poter visionare per sostenere un loro diritto. Rivolgendosi al difensore civico si ha una risposta certa entro 30 giorni, soprattutto il ricorso è gratuito e in ogni modo la mia esperienza nell'ambito dell'ufficio dimostra che in tutti i casi non vi è stato nessun ricorso giuridizionale. I vantaggi sono evidenti e quindi mi sembra anche un mezzo per favorire trasparenza e partecipazione e ad un tempo anche legalità.